Tra marzo e aprile torna l'isola dei famosi ma Hilary Blasi probabilmente non sarà più la conduttrice del programma. Fanpage ha appreso che, seppur era in dubbio, il reality tornerà su Canale 5. A marzo ci sarà la finale del Grande Fratello e a seguire inizierà il programma dei... Già alla presentazione dei Palinsesti 2023-2024 l'ex di Totti non c'era. Ciò aveva portato a pensare perfino che fosse stata cacciata da Mediaset. Qualche mese fa è arrivata la smentita da parte di Dagospia. Il sito aveva riportato, però, che le sorti della conduttrice sarebbero dipese dalla conferma o meno di un'altra stagione del programma. Ora che il reality tornerà, secondo Fanpage, è la conduttrice stessa che non sa se rimanerne al timone oppure no. L'ultima edizione del reality è andata in onda tra aprile e giugno 2023 e si è conclusa con la vittoria di Marco Mazzoli. Alla conduzione c'era Hilary Blasi, affiancata da Enrico Papi e Vladimir Luxuria, come opinionisti. Durante la precedente edizione ci sono state tensioni con Papi. Sono infatti circolati rumors sul fatto che l'ex di Totti non apprezzasse l'eccessivo protagonismo dell'opinionista. Totalmente diverso il rapporto con Vladimir. Le due spesso in trasmissione si sono punzecchiate con battute ironiche e luxuria. Le ha spesso lanciato frecciatine su Bastian Muller. Anche all'ex opinionista, qualche mese fa, è stato chiesto se sapesse qualcosa sulle sorti della Blasi. Vladimir ha detto di non sapere nulla, ma di escludere un'edizione senza Hilary, ormai colonna portante del programma. Appena era uscita l'indiscrezione su Hilary Blasi, estromessa dall'isola, Valerio Staffelli le era andato a consegnare il tapiro e a chiederle spiegazioni. Il «giornalista» del TG satirico ha anche paragonato la Blasi a Barbara D'Urso, chiedendole se le toccassero le stesse sorti, con l'esilio da Medias.